salve e benvenuti a una nuova puntata di io mi arrangio travel non si può fare mica il bucato dentro lavandino sapete in tutti gli ostelli è vietato questa pratica infatti invece del tappo del lavandino ti danno questo e allora come faccio non è un tappo per chiudere ma semplicemente non serve a niente ma non c'è problema per questo ci sono tante soluzioni avete in casa un pezzo di plastica un sacchetto che non vi serve io ce l'ho prendete il sacchetto comprimete leggermente per far uscire tutta l'aria inutile prendete quel pezzo che avete trovato nel vostro lavandino che non serve a nulla e trasformatelo in un tappo con la sua guarnizione andiamo così ad applicare e se mi scoprono potete sempre dire che era già lì pressate bene pressate bene ecco adesso aprite l'acqua lasciamo riempire c'è una macchia di grasso si vede no è all'orale quindi mettete tutto quanto a lavare è vero anche colorate a bagno massaggiate bene gli indumenti tutti gli indumenti quando l'acqua raggiunge un certo livello bisogna chiudere il rubinetto se no l'acqua esce tutta ho chiuso il rubinetto dobbiamo aggiungere un detersivo in casa non ho niente ma come non hai non hai un non hai uno shower cream al kiwi e frutti di bosco aggiungiamo quindi un po' di prodotto andiamo a frizionare frizionare finché non si crea una schiumetta con tutti quei bei frutti che c'era dentro siare riposare per qualche ora libero e felice e allora la puntata è finita spero che questo consiglio sia stato molto utile per voi e ci vediamo alla prossima puntata di mi arrangio travel o mi arrangio viaggiando mi arrangio travel travel mi arrangio travel grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti